Buonasera e ben ritrovati. La cronaca degli ultimi giorni riporta tragicamente in primo piano la piaga degli incidenti sul lavoro, come avviene periodicamente nel nostro paese. Nessun settore produttivo ne può essere escluso e bisogna fare di tutto per migliorare le condizioni di sicurezza. Di questo si è parlato stasera a materia in un'iniziativa della CNA che ha seguito per noi Luigi Di Lauro. Di lavoro in Italia si continua a morire. Uno dei settori a rischio individuati dal legislatore è quello dell'edilizia. Da qui la volontà di introdurre nuove regole. Dal 1 ottobre è previsto l'avvio di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, la cosiddetta patente appunti, obbligatoria per chi opera proprio nell'ambito dei cantieri edili. La patente sarà rilasciata in formato digitale dalla sede territoriale dell'ispettorato del lavoro. Ma cosa cambia per le imprese? Le imprese si dovranno registrare e acquisiranno i primi 30 punti, 30 crediti, che poi dovranno mantenere per operare nei cantieri edili. Dovranno cercare di non avere problemi in cantiere, altrimenti avranno una decurtazione di questi crediti. Al di sotto di 15 crediti non si potrà più operare. Ma cosa pensano le imprese di questa rivoluzione? Le imprese si aspettano che non sia solo un momento burocratico e sanzionatorio, ma che sia un momento che porti a fare più formazione su quelli che sono poi gli operai e che sono gli operatori del cantiere, che ad oggi sono molto più sensibili rispetto a prima sulla sicurezza. Aumentano le norme in materia di sicurezza, ma di cos'altro c'è bisogno? C'è bisogno di più cultura della sicurezza. In quest'ambito il Comitato Provinciale in Ail ha già realizzato un concorso che partirà a settembre nelle scuole. Pensa, valuta, agisci, proprio per tentare di coinvolgere i ragazzi delle quarte e quinte superiori in questo tema delicato che è il tema della sicurezza, che soprattutto con un approccio culturale diverso potrà consentirci di raggiungere risultati positivi.